Io pensavo stamattina fossi venuti qui a trovarmi per queste notizie, siamo il primo comune che organizza il CUP qui nel Palazzo Comunale, poi abbiamo fatto un bel patto di gemellaggio con Sant'Anna di Stazema per portare i nostri giovani a ricordare un po' di cose brutte, e invece siete qui per chiedermi della notizia, immagino, degli arresti del padre, della madre, dell'ex Presidente del Consiglio. Preferirei parlare, conosco tutti i cittadini personalmente, però preferirei parlare da sindaco di tutta la comunità, sul personale ovviamente è grande rispetto delle persone, però mi fermerei qua. Ma questa comunità è un po', come posso dire, un po' di restanca di questa attenzione mediatica negli ultimi anni abbiamo avuto, sia in positivo che in negativo, però d'altra parte non è che si possa fare delle scelte, la comunità può fare delle scelte se deve essere o meno attenzionata, però reagisce ovviamente come una buona.